Ehi, NicoStar! Ehi, NicoStar! Ti ricordi di me, NicoStar? Chi cazzo è che parla? Sono io, non ti ricordi? Mi hai tirato fuori l'altro giorno! No, non ti voglio! Non ti voglio mettere dentro! Invece sì, lo farai! No, non ti metterò mai dentro! Invece sì! No, non voglio! Invece lo farai, ti ho detto! Mi metterai dentro! È obbligatorio! No, non voglio! E adesso mi metterai dentro! Sì! No, non voglio! Ciao a tutti ragazzi! Sì, eccoci qua! Per una nuova puntata di Biosklerander 6.0 Allora siamo qui! Siamo su Call of Duty Black Ops 1! Il primo! È da tanto che non ci gioco, quindi scusate le prestazioni un po' che saranno un po' da schifo! Speriamo di fare il meglio possibile! Adesso cercherò di continuare avanti con questo, visto che abbiamo fatto 5 episodi con quello, faremo 5! Anche questo, se riusciamo di qua, meglio! Intanto qua siamo già a... Allora, 3 uccisioni di fila! Bene, qua ci sono scritte quante di fila, quindi siamo a posto, perché sullo qualsiasi due vanno pronti, invece qua vanno a uccisioni, quindi secondo me è anche meglio questo fattore qua. Il nostro obiettivo è sempre 30 o più di fila. Beh, da tanto che non gioco, però... A parte di scherzi mi trovo bene, molto anche. Dai! Uso l'MP5K con fuoco rapido. Ho la claim, però ho la seconda occasione. Gioca il Prestige Pro. 1911 di secondario, in teoria. Non lo so. Non ho neanche guardato sinceramente, ho acceso e ho detto, beh, cosa porti i miei VIP? Portiamoli i Black Ops 1. Tanto se qualcuno non ci ha mai giocato, che lo veda. Anche se è un gioco vecchio, comunque resta sempre nella storia e secondo me resterà sempre bello, stupendo, eccetera. Vabbè, lo prendiamo un po'. Perfetto. Ma guarda, sto scemo, cazzo. Però qua su questo gioco non contano le uccisioni di... No, Poln... Cani, eccetera, non le contano, sono uccisioni single, cioè... Tipo questa, da cento punti, non è che la conta come uccisione. Che invece Black Ops 2 la conta come uccisione, per le ricompense, ovviamente. E sono abbastanza soddisfatto come sto giocando, da tanto che non lo prendi in mano. Beh, guarda, ti berlato. Stiamo vincendo. Ok, dice Bits. Il nostro contrattacco U2 è in volo. Non so l'acqua a volte. Vabbè, va due. Via, 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 via. Tre. Cazzo qua c'è... Sta il master bond sulla rete, non lo so. Dai, cecchino. Mi è acceso con la flashback. Ma what the fuck is that? Dai, io andò, io andò, io andò. Dai, io andò, io andò! Dai, io andò, io andò. Da qua. Da qua. Da qua. Che cazzo faceva motone? Che devi d'incularmi, sfido di merda. Non so io stagione. Che cosa credi fuori? Il nostro U2 è in volo. Tre, di fine, perfetto. U2 disponibile. 4, adesso. adesso se qualcuno venisse a animarmi ci nascondiamo così sto qua magari non mi vede facciamo prenderlo l'ho sprovvisto, dai passa adesso in teoria dovremmo partire il mission si che il ballo è un casino covra alleato in arrivo grandissimo, questa trece è grandissimo c'è nulla, allora rifacciamo il giro prendiamo dai che cazzo fai vado il cazzo rcx di nemico rilevato in zona che culo u2 disponibile u2 alleato in arrivo fanculo cobra in avvicinamento che dì formula stronza di merda bacone del cazzo oh 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 no ho sbagliato mesi siamo in giugno oh oh sei di filo perfect vediamo quanti nemici diamo io conto ovviamente con immortali e tutto fai ricevute, fuoco sul bersaglio quindi siamo a 6 vediamo 7, 8 siamo a 8 e no, 8 8 ho detto doppio quindi mi fido siamo a 8 di fila approvvigionamenti nemici in avvicinamento approvvigionamenti nemici in avvicinamento v2 nemico in volo ma fanculo va ma guarda sto scemo cazzo fanculo copra nemico in avvicinamento ma è finito e mi porto sempre due partite e ci vediamo alla prossima quindi è finito perfetto abbiamo vinto adesso salto sta parte toglio e ci vediamo alla prossima eccoci qua ragazzi su Nuketown partiamo visto che qua non c'è la regola di 2 secondi allora 1 facciamo 1 2 0 1 2 3 niente sta andando benissimo questa partita è quella giusta scontra dai 1 ma fanculo va porta troia 1 0 bellissimo grandissimo bomber assist bene grazie grazie di avermelo ucciso grazie mille stiamo stiamo perdendo smetti tu quel cazzo di camper che sei fa fare in culo fai a fare in culo dai 3 3 perfetto intanto la sta camperando lei alza mi alza che sono 3 4 perfetto perfetto se c'è qualcuno 5 grandissimo dai 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 9 8 8 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 no 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 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 21 di fila signori e con questo chiudiamo qui da in questa 13 è tutto bella ce l'abbiamo quasi fatta signori 15 21 21 20 21 22 21 22 23